PS4, areare inizio veloce scorrevole il saltino manca un cartello ma credo che per stare sulla 4 bisogna restare a sulle strade ecco questo sembra un pezzo nuovo continuiamo a sinistra qualche fattuccia si intravede qua il terreno è ancora da schiacciarsi bene si deve compattare difficile farla scorrere eccolo qua si rimette nella linea classica di PS4 ci rimette ci rimette ci rimette ci rimette qua qua conviene sempre stare alti bello questa parte qua tutto sgato bello 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 tutto sgato con il classico flow si scivola un sacco si scivola un sacco si scivola un sacco iniziano direi che abbiamo visto tutte le pièce ricordatevi la 1 e la 2 si ripetono e niente buona gara a tutti ci si rivede con il report gara dopo questa quarta e ultima super enduro 2018